Grazie di essere qui, grazie soprattutto per l'attenzione che ci riserverete in questa mattinata, ci attendono momenti molto intensi per il valore delle cose che verranno dette, soprattutto per i contenuti che verranno espressi in questa mattinata. Io sono qui nel ruolo di moderatore ma consentitemi di fare una brevissima sottolineatura e con grande piacere che sono qui perché il mio lavoro di giornalista, di vice direttore del Tg1 mi ha consentito negli anni di apprezzare il ruolo che nella società italiana svolgono gli assistenti sociali, lo dico senza alcuna retorica e senza alcun compiacimento ma lo dico con un'osservazione realistica e con una fotografia, con una constatazione. Vedete noi abbiamo attraversato una delle più dure crisi economiche della storia della nostra Repubblica ma io direi proprio della storia del nostro Paese perché la crisi del 1929 ormai tutti gli economisti insegnano la facoltà di economia della sapienza sono concordi nel dire che fu una crisi più breve e meno di impatto di quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Circa sette anni di recessione in alcune aree del Paese, tre in altre aree del Paese. inoltre le nostre strutture sociali vanno completamente mutando da osservatore che non ha parametri scientifici ma da osservatore della realtà mi sento di dire che la famiglia non svolge più quel ruolo di cintura sociale che svolgeva nei decenni passati. Siamo in quella che il grande sociologo Bauman ha definito la società liquida, una società molto scomposta, una società molto parcellizzata e quindi in questo contesto avere punti di riferimento forti, chiari, evidenti, motivati e professionali soprattutto come gli assistenti sociali secondo me diventa un dato molto molto rilevante e su questo credo debbano poi riflettere anche chi ci governa, le autorità, vedete io penso che un buon giornalista deve adottare un metodo aristotelico nell'approccio, cioè deve valutare la società dal basso, gli accademici valutano la società dall'alto con dei parametri scientifici, noi la società la interpretiamo e la valutiamo dal basso. Diceva un maestro di giornalismo, diceva dobbiamo guardare nella spazzatura perché guardando nella spazzatura possiamo addirittura desumere degli elementi sui consumi, sulle abitudini e sul tenere di vita delle persone, quindi questo è un dato molto importante e io noto spesso quando mi occupo di casi di cronaca ma anche di fenomeni sociali come gli assistenti sociali siano come dire il primo stadio della frontiera della società organizzata, noi ricordiamo la prima guerra mondiale quest'anno no? In trincea volendo usare una metafora visiva ci sono gli assistenti sociali, cioè loro sono come dire la prima linea di impatto rispetto a determinate fenomenologie sociali. Siamo poi in una stagione in cui, consentite di dirmelo, ma questa è una valutazione del tutto personale, dieci anni fa abbiamo constatato il fallimento del socialismo reale, adesso dobbiamo constatare il fallimento del turbocapitalismo, cioè del capitalismo accentuato. Evidentemente l'alternativa è la costruzione di una società della solidarietà, di una società che riconosca il mercato ma che lo vada a mitigare con la solidarietà, con l'umanità, con la comprensione perché altrimenti non ne usciamo, anche perché, e qui parla l'economista, badate bene noi siamo in un'epoca in cui l'asse globale della ricchezza si è spostato verso l'Asia e l'Occidente non avrà più i livelli di ricchezza che aveva 10, 20, 30 anni fa, questo è un dato oggettivo perché legittimamente 3 miliardi di individui che prima erano al di fuori del mercato, mi riferisco ai cinesi, agli indiani, indonesiani, malesiani, adesso sono nel mercato, vogliono essere protagonisti e quindi quella torta che prima si divideva per 3 è una torta che adesso viene divisa per 6 e quindi l'Occidente non tornerà mai più ai livelli di benessere del passato e allora come può difendersi l'Occidente? Concependo una società weberiana, una società della solidarietà dove evidentemente il ruolo, gli assistenti sociali diventano un nerbo vitale in una costruzione di un progetto di questo tipo. A questo punto mi zittisco ma le cose che ho dette le ho dette con grande sentimento se mi consentite perché le condivido e le penso davvero, non è un discorsetto di circostanza che tra l'altro non era stato neanche preparato. Allora darei subito la parola alla dottoressa Giuliana Saccone che è la presidenza del Consiglio dei Ministri. Prego.